Partita dai mille significati a San Buceto, dove arriva il Monte Silvano, con i locali che cercano la prima gioia dopo le dimissioni poi ritirate di Mr. Ronci e gli ospiti di Antignani desiderosi di restare nelle zone nobili della classifica, puntellando una quota salvezza ormai quasi del tutto raggiunta. La prima occasione della gara viene registrata sul cross dall'out di destra di Vedovato, che non viene però raccolto come si dovrebbe d'appetito, il pallone si spegne infatti sul fondo. La risposta del San Buceto al sedicesimo è tutta in un tiro improvviso di Pellecchia, la sfera termina fuori alla sinistra di Mastro Girolamo. Al ventisettesimo gli uomini di Mr. Ronci si portano ad un nulla dal gol del vantaggio con un bello scambio, propiziato anche da una deviazione da parte di un difensore ospite che permette a Pellecchia di concludere a botta sicura. Mastro Girolamo è battuto, ma Vedovato è al posto giusto per salvare sulla linea il Montesilvano. Gli ospiti rispondono al fuoco con la conclusione di Petito al trentottesimo, abile a girarsi in area di rigore ed a concludere verso il giovane Didonato. Il classe 2004 è abile a respingere con i piedi tenendo il match sullo 0-0. Ancora un'occasione clamorosa al quarantaduesimo per il Montesilvano, sull'ottimo pallone messo verso il centro dell'area di rigore da Maloku con la girata di testa di Lupinetti che termina fuori bersaglio a difesa del Sambuceto completamente superata. Nel primo tempo non succede più nulla e con le immagini di Claudio Senerchia siamo nella ripresa. Il primo sussulto è al settimo minuto con un calcio d'angolo a favore del Sambuceto che viene deviato davanti a Mastro Girolamo e finisce in rete. Il signor Arnese però ravvisa gli estremi per fischiare un fallo sul portiere che annulla il gol dei locali e si resta dunque sullo 0-0. Il Sambuceto continua a spingere ed al quattordicesimo imbastisce una buona occasione che porta a liberarsi al tiro il centravanti Ranieri. La sua conclusione termina però lontana dai pali del Montesilvano. Ancora un gol annullato al Sambuceto, stavolta per offside al venticinquesimo della ripresa. Il pallone giocato verso Ranieri scavalca infatti la difesa ospite e permette al numero 20 di realizzare davanti a Mastro Girolamo ma la bandierina dell'assistente si alza e vanifica ancora una volta il gol dei locali. La pressione degli uomini di Ronci è ormai costante ed al trentesimo minuto serve un intervento spettacolare da parte del portiere del Montesilvano per impedire il gol del vantaggio del Sambuceto. La sfera termina a lato ed i viola devono accontentarsi di un calcio d'angolo. La reazione fulminea del Montesilvano si concretezza al trentunesimo con un pallone filtrante che arriva nella disponibilità di Chiulli. La sua conclusione è però centrale e ditonato parendo i tempi. Il Sambuceto può contare sulla grande classe dei suoi giocatori offensivi e lo mette chiaramente in mostra al trentasettesimo quando un calcio d'angolo trova la clamorosa rovesciata in area di rigore di Miciche. Mastro Girolamo si mostra portiere all'altezza della situazione e vuole a deviare ancora in corner tenendolo 0-0. Al novantesimo praticamente scaduto il Sambuceto impegna ancora una volta il numero uno ospite e sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo di giornata lo costringe ad un difficile intervento sul primo palo. Dill'in poi cinque minuti di recupero nella ripresa non succede più nulla e tra Sambuceto e Montesilvano il finale è 0-0. Con l'allenatore in seconda Marini del Sambuceto un pareggio per 0-0 che vi lascia delusi per i due colla annullati e per un secondo tempo all'arrembaggio. Esatto ha fatto una disamina perfetta. Primo tempo equilibrato con una squadra organizzata forti quindi però noi il secondo tempo abbiamo fatto la partita c'è stata solo una squadra in campo poi noi di solito non recriminiamo con gli errori arbitrali però il gol sul calcio d'angolo le guardaline da da gol il portiere ha visto la palla che lo sorpassava è caduto a terra ma si vedranno le immagini stasera e l'arbitro dà un fallo di confusione. Purtroppo quello è gol e poi ci sono state tante altre situazioni anche la gomitata del ragazzo vedovato che era già munito però non stiamo qui a dire però abbiamo fatto una grande partita meritavamo i tre punti ma alla grande mi dispiace però se continuiamo su questa strada noi faremo arriveremo su questi tre punti meritati ci tiravano fuori da una situazione un po' particolare però se giochiamo così non ce n'è ci noi ci salviamo tranquillamente se giochiamo così. Grazie in bocca al lupo. Treppi. Commissar Antignani un buon pareggio sul campo del Sambuceto e soprattutto il quinto posto in classifica del tuo Montesilvano mister. Sì un buon punto contro un'ottima squadra il quinto posto lasciamo perdere perché ho visto i risultati e c'è ancora da lottare per la salvezza matematica manca pochissimo però c'è ancora da lottare e per quanto riguarda la partita abbiamo giocato con una squadra che sapevamo che era fortissima è allenata da un grande allenatore che per me solo fonte di bagaglio d'esperienza quindi io prendo da questi allenatori forti e bravi tutto quello che posso prendere e l'avevamo preparata così abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo poi alla fine ho rischiato anche il 2003 Chiulli lì davanti e ho rischiato anche di fare col tra l'altro che il portiere la presa lui è stato magari ha sbagliato a non angolarla. Era una partita che potevamo vincere potevamo perdere allo stesso tempo quindi il pareggio penso che sia risultato più giusto. Il San Buceto ha qualcosa da recriminare per i due episodi che hanno visto i due gol annullati ti chiedo comunque una battuta anche su questo. Io ho visto un gol solo annullato che era carica sul portiere perché a prescindere dal fatto che poi la palla sia entrata o meno il fallo sul portiere va sempre fischiato sia in area nostra che in area loro. Il secondo ragazzi non se ne deve proprio parlare perché fuori gioco stavo io in linea stavo guidando io la difesa mi ero io in linea e fuori gioco di un metro, un metro e mezzo quindi non esiste recriminare sul fuori gioco. Sul gol c'è la carica al portiere, c'è il regolamento anche perché allora mi devo mettere a recriminare pure io, sette ripartenze e zero ammunizioni, a me due ripartenze e due ammunizioni quindi io non ho detto nulla, ho detto il risultato giusto, pareggio giusto, faccio i complimenti a loro perché hanno tutte le carte in regola per tirarsi fuori da dove sono e noi dobbiamo fare qualche altro miracolo.